la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it A tutti un buongiorno e ben ritrovati con informazioni di Uno News iniziamo la nostra giornata informativa con la rassegna stampa di mercoledì 17 dicembre le notizie in primo piano quest'oggi sono la strage in Pakistan i talebani hanno ucciso oltre 130 bambini in una scuola di militari e poi ancora nel Salernitano una giornalista dell'agronocerino sarnese è stata investita Maria Rosalia Vitiello, una corrispondente del mattino di Salerno è stata investita appunto da un'auto dopo che usciva appunto da un incontro proprio sulla sicurezza stradale le sue condizioni sono gravi vedremo le notizie sulla città di Salerno intanto però anche il Vallo di Diano i carabinieri di Sala Consilina sono riusciti a sgominare una banda di nomadi per furti in appartamenti nel Vallo di Diano e poi ancora multe da 500 euro a Camerota per chi vende e spara a botti è questa la particolare ordinanza del sindaco intanto andiamo sulla pagina del mattino nazionale il colle ai sindacati basta politica, rispetto per le decisioni del governo voci di voto e decisioni creano instabilità i richiami di Napolitano nel discorso alle alte cariche dello Stato appoggio alle riforme di Renzi e nessun cenno alle dimissioni e poi a centropagina come vi avevamo già annunciato la strage in Pakistan massacro a scuola l'atroce vendetta dei talebani l'assalto ammazzati senza pietà 132 studenti figli di militari leggiamo insieme 6 talebani sono penetrati in una scuola a Peshawar nel nord del Pakistan gestita dall'esercito e hanno giocato al tiro a segno con 500 studenti quasi tutti figli di militari uccidendone 132 oltre a 9 insegnanti ferendone 250 molti dei ragazzi di età tra i 7 e i 16 anni sono stati massacrati con colpi di arma da fuoco alla testa e al petto leggiamo ancora la minaccia jihadista è all'apice ci eravamo dimenticati di un particolare la linfa jihadista che ha permesso la nascita dell'Isis oggi semplicemente stato islamico arriva dalla regione della afpac vale a dire afghanistan pakistan e poi ancora i titoli dei commenti di oggi perché serve un successore condiviso per quanto riguarda la politica e poi se la sinistra riscopre la corruzione leggiamo ancora gli altri titoli la polemica napoli de laurentis tifosi piagnoni ma non lascio parte al contrattacco de laurentis criticando i mugugni dei tifosi spesso si soffre di piagnonismo ma io non sono piagnone non lascio bisogna giudicare le cose alla fine e poi ancora tifo, pago e mi lamento sentiamo l'esigenza di ringraziare il presidente e così dovrebbero fare tutti i tifosi ingrati, traditori, infantili e piagnoni che non sono altro di Maurizio De Giovanni e poi Salerno, Buco, ecotassa stangata da 2,7 milioni il consorzio nel mirino nella guardia di finanza indagini sulla gestione del ciclo utilizzate di scariche in Campania senza mai pagare la regione e poi la storia a 17 anni ha travolto e ucciso un bambino il GIP scriva un tema e poi ancora a Castellammare il centro immigrati bruciato dal clan incendiato il palazzo sequestrato dalla camorra e poi ancora se a De Magistris va di traverso l'acqua dalle battaglie sul bene comune ai conti salvati con gli utili di ABC e poi il caso Marot schiaffo indiano l'Italia la torre resta qui lo ha detto il ministro della difesa e andiamo avanti con la strage in Pakistan leggiamo il primo piano del mattino nazionale strage nella scuola violata dai talebani orrore nel mondo tra le vittime 132 alunni e 9 insegnanti il commando composto da 6 kamikaze leggiamo un po' più da vicino i talebani pakistani hanno distrutto centinaia di scuole nel nord del Pakistan quando erano vuote a volte lo hanno fatto lasciando indietro di loro alcuni studenti feriti ieri hanno deciso che doveva essere l'ora della vendetta con la V maiuscola e hanno firmato probabilmente la pagina più orribile delle stragi di questa guerra germogliata dopo l'offensiva lanciata dalla coalizione internazionale a guida degli Stati Uniti nel 2001 contro l'Afghanistan e ancora Malala il premio Nobel non saremo mai sconfitti e poi vendetta abbiamo scelto con cura l'obiettivo avete colpito le nostre donne sarebbe questo ciò che ha appunto causato poi la decisione di compiere un gesto così ignobile così ho visto cadere i bambini cercavano di coprirsi la testa le testimonianze il racconto dei ragazzi feriti i terroristi di classe in classe per colpire a sangue freddo e poi il fuoco un insegnante è stato cosparso di benzina e bruciato vivo e poi i genitori l'angoscia di chissà se il figlio è morto o è in ospedale lasciamo questa triste pagina di attualità e di cronaca nera andiamo sulla pagina macro del mattino che affronta l'importanza degli screening preventivi al cuore dopo appunto anche la morte del cantautore di Lago Negro Mango morto il 7 dicembre per il cuore si può fare di più nonostante il calo della mortalità e malattie cardiovascolari restano il primo killer il programma della SIC i test e le abitudini 250.000 le vittime che si registrano ogni anno in Italia per problemi di natura cardiovascolare invece dell'80 la percentuale di allungamento della vita dovuta ai progressi della cardiologia e dell'1% appunto la percentuale di ragazzi con problemi di cuore individuabili con screening anticipato e poi leggiamo soltanto brevemente le prime righe dell'articolo il cuore degli italiani è sempre più forte con un tasso di mortalità sceso di un terzo nei primi 10 anni del 2000 nonostante questo successo le malattie cardiovascolari restano il primo killer nel nostro paese con 250.000 vittime all'anno ma leggiamo anche un'importante iniziativa che è quella dello screening nelle scuole e quindi andiamo nella parte più bassa della pagina e quindi adolescenti istituire i controlli nelle scuole circa l'1% degli adolescenti ha un problema al cuore individuabile attraverso un semplice elettrocardiogramma ma senza uno screening allargato è impossibile scoprirlo andiamo avanti con la prima pagina del mattino di Salerno eccola vediamo l'apertura scelta quest'oggi dal quotidiano salernitano via i pontili sfratto per le crociere molo trapezio il consiglio di stato chiude l'avvertenza a favore dell'autorità portuale meno concessioni e approdi ridotti cadono i ricorsi presentati dai gestori degli ormeggi al porto e poi il progetto Santa Teresa ecco il piano della spiaggia brasiliana e poi i rifiuti consorzio Salerno 2 evasione da 2 milioni quindi guai e problemi per il consorzio che appunto gestisce il sistema rifiuti e poi dramma Maria Rosaria travolta sulle strisce gravissima la nostra collaboratrice Vitiello l'incidente ha scafati dopo il convegno appunto sulla sicurezza stradale era stata la moderatrice al dibattito con gli studenti sulla sicurezza stradale ed eccola al centro del parterre e poi angri falsi sinistri 152 rindii a giudizio e ancora appello in appello delitto scigliano assolti i fratelli Capozzoli e poi ancora leggiamo lateralmente il caso testimone di Geova rifiuta la trasfusione e muore in ospedale andiamo avanti leggiamo gli altri titoli l'economia 60 anni con l'oro della Doria terra uomini aziende più sinteticamente tua con questo acronimo la Doria ha deciso di festeggiare i 60 anni di attività e di ripercorrerli attraverso un viaggio fotografico che parte dal territorio e giunge ai protagonisti che nel tempo hanno reso l'agro nocerino sarnese il più importante polo di trasformazione del pomodoro e ancora ballo della Lucania lite con l'attore processo per il vescovo seconda richiesta del procuratore greco e poi craccamato Mussari sotto accusa Filone Banca Campania il PM processateli andiamo avanti con la pagina interna Diano Cilento eccola la leggiamo il vescovo e l'attore la lite torna in tribunale questo il titolo di apertura della pagina e poi tra l'ex presule e il direttore artistico di Velia Teatro una lunga battaglia a suon di interviste richiesta bis di giudizio per Monsignor Favale ha diffamato Murino San Giovanni a Piro rubano oro e lo rivendono due ragazzi nei guai arrestati e poi coltellate alla moglie non voleva ucciderla Vibonati l'avvocato di Pili tenta la strada dei domiciliari l'accusa insiste con l'ergastolo la difesa ha tentato di curarla e ha deciso con lei di evitare il ricovero ecco la foto di Pierangela vittima appunto del femminicidio il nodo la compagnia dell'artista questa però appunto è invece una notizia che riguarda sempre il vescovo la compagnia dell'artista esclusa dalla sala diocesana così è nata la ruggine e poi ancora furti e rapine presa la gang dei nomadi sala consiglina razzie negli appartamenti dai centri nel vallo di Diano e Toscana notificate tre misure di custodia cautelare per una l'obbligo di firma i colpi otto assegno altri otto falliti identica la tecnica abitano nei campi rom e poi ad agropoli autovelox non pagate date i soldi alla caritas e poi multe fino a 50 euro fino a 500 euro a chi vende e spara botti alla vigilia delle feste l'ordinanza del comune a Camerota divide la città andiamo sulla pagina della città di Salerno eccola la prima pagina l'apertura sulla politica ecco la petizione nel PD contro De Luca avviata raccolta di firme per sfiduciare il segretario regionale Tartaglione e annullare le primarie caos nel partito e la strategia elettorale del sindaco è vulnerabile nel casertano e poi l'altro titolo eccolo travolta mentre attraversa sulle strisce il dramma di Maria Rosaria appunto la giornalista dell'agro che è stata investita da un'auto ieri mentre dopo al termine di un incontro sulla sicurezza stradale dramma sulla Statale 18 nel centro di Scafati dove la giornalista Maria Rosaria Vitiello è stata travolta da un'auto la nostra collega attualmente in forza al mattino si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Nocera in mattinata aveva moderato un dibattito sulla sicurezza stradale sotto shock l'investitore e poi porto 350 milioni di fondi piani di annunziata per Salerno torna la spiaggia a lungomare Trieste Gli altri titoli Cavali Tirreni turisti in arrivo servizi potenziati Pellezzano Madonna delle Grazie miracoli a Capriglia e poi gli altri titoli è sotto shock è sotto accusa per pedofilia muto dal giudice è il caso e poi i trasporti per la regione Campania la metro avrà un futuro e poi politiche affari cracca amato processate anche Mussari e poi i titoli dei commenti di oggi l'Occidente senza memoria lo spettro si chiama inflazione andiamo in fondo per lo sport Gabionetta vuole andare via Salernitana il brasiliano è scontento oggi firma aronica dell'Aurentis i tifosi del Napoli sono troppo piagnoni serie D la Cavese va a caccia di rinforzi in attacco passiamo sulla pagina della provincia della città di Salerno quindi leggiamo le notizie che ci propongono quest'oggi ed è su sala consiglina l'apertura furti in abitazioni sgominata la gang due arresti ed un obbligo di dimora per gli autori di otto colpi in altrettanti appartamenti e negozi nel ballo di Diano e poi Ponte Cagnano elezioni al comune tar ordina riconteggio delle schede a campagna raggiro da 900 euro ad anziana disabile truffatore scoperto e poi San Giovanni a Piro rubano preziosi e li rivendono a comprooro sono stati presi pusher in fuga acciuffati nelle campagne Monte Corvino Pugliano e poi ancora Vallo di Diano nuovi guai per Favale dal Gup per diffamazione Vallo della Lucania scusate nuovi guai per Favale dal Gup per diffamazione e poi a Bibonati il centro Juventus rischia di chiudere appello a Caldoro e poi Giffoni Vallepiana comunali i Carpinelli si riavvicinano tra poco la seconda parte restate con noi Ben ritrovati con la seconda parte della rassegna stampa di Uno News oggi è mercoledì 17 dicembre questa è l'apertura di Cronache del Salernitano Sagrestia a luci rosse anche un un vibratore perdona Antonio Danesi per le sue avventure di sesso giudizio immediato per il prete accusato di aver abusato di un giovane di San Severino e che continua a dire messa al sacro cuore e poi gli altri titoli trasporti privati non ci sono soldi per gli stipendi a rischio lo stop dei bus non sono arrivati i fondi della regione niente è tredicesima e poi il grave incidente stradale per la giornalista di Scafati Maria Rosalia Vitiello appunto travolta sulle strisce aveva moderato un convegno sulla sicurezza stradale e in gravi condizioni all'ospedale di Nocera e poi PD nel caos raccolta di firme contro la segretaria del PD regionale Tartaglione l'obiettivo è di evitare la candidatura di De Luca e di cancellare le primarie per calare migliore che da Sel passa al PD e poi ancora gli altri titoli Aronica primo acquisto Fabiani stringe su Calvanese Donnarumma parliamo di sport di Salernitana Mazzeo si allontana Trevisan due turni di stop successo per il calendario Granata e poi annunziata soddisfatto nel 2014 200.000 croceristi e poi annullata la festa al Bogart Gagliano via tutti la notizia appunto che riguarda Forza Italia venerdì ci sarebbe dovuta essere una festa poi soltanto spostata e questo è il titolo e andiamo ancora all'interno delle pagine di cronaca del Salernitano con la pagina Sud Salerno Sud l'apertura è sull'operazione dei carabinieri che hanno preso la gang delle villette in manette Liubisa Iavonic 42 anni Giuseppe Farina di 38 e Ciro Gennone di 30 i ladri responsabili di furti e rapine anche in Toscana l'operazione l'hanno denominata Easy Gold i carabinieri e poi al centro pagina sblocca Italia Trivellazioni e articolo 38 Caldoro impugni la normativa lo dice il consigliere lo chiede il consigliere regionale del PD Donato Pica e poi Sala Consilina piccoli grandi alunni a Viscigliete 700 euro per l'Unicef e ancora leggiamo gli altri titoli Sala Consilina la rabbia oggi conferenza stampa al comune indetta dal sindaco Cavallone distretto 72 squillante il manager dell'ASL dice uffici a Sant'Arsenio e i sindaci attaccano appunto il direttore generale e i sindacati e poi ancora Polla la minoranza fratricida sulle casse comunali bilancio Camardella zittisce Coppola insieme per Polla e autolesionismo e poi le notizie in breve Sala Consilina mercato in festa da domani al 24 gennaio da domani appunto fino al 24 stand in Piazzetta Garibaldi mercato in festa mostra mercato delle tipicità natalizie è stato organizzato dal comune di Sala Consilina da Casa Artigiani Salerno e dalla Camera di Commercio apertura alle 10 animazione natalizia con artisti di strada e poi Teggiano i vincitori alla tavola della principessa Costanza verranno premiati il 22 dicembre i vincitori del quarto concorso fotografico collegato alla manifestazione alla tavola della principessa Costanza la cerimonia si terrà appunto il 22 dicembre a Teggiano alle 17 e 30 presso il convento della Santissima Pietà e poi ancora le altre notizie Polla Cassa Integrazione Sindacato Azzurro denuncia l'Ergon e poi sempre a Polla Forum dei Giovani raccolta giocattoli per bambini meno fortunati andiamo avanti con altre pagine quelle di Metropolis leggiamo l'apertura ed eccola la ingrandiamo incendio al centro immigrati succede a Castellammare fiamme appiccate alla Sharam Santa Caterina immigrato si ferisce mentre scappa l'inchiesta segue due piste razzismo camorra i volontari i nostri ragazzi minacciati da mesi e poi come abbiamo già detto la giornalista investita a Scafati è grave in ospedale si chiama Maria Rosalia Vitiello collabora col mattino travolta da un'auto dopo un convegno che aveva moderato nella biblioteca comunale Morlicchio sulla sicurezza stradale e poi e poi ancora andiamo avanti con le altre notizie che arrivano dalla provincia a sud Vattipaglia sale sulla statua e tenta il suicidio attimi di terrore lunedì in piazza della Repubblica il giovane è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e poi Eboli vertenza in prosta continua lo sciopero capaccio trasporto pubblico ufficiale il bando e poi Rocca d'aspide energia rinnovabile fondi dal governo sono circa 122 mila euro il finanziamento per l'efficientamento energetico e poi Sapri colpo in casa presi ladro e ricettatore e ancora leggiamo fuga tra le sterpaglie con la marijuana due giovani bloccati a Monte Corvino Pugliano dai carabinieri nascondevano nel bauletto del motorino 100 grammi di erba sequestrati dalle forze dell'ordine anche 700 euro in contanti e poi sala consiglina furti due arresti stanata la banda degli appartamenti rapine tra la Campania e la Toscana ed eccoli i nomi e i volti delle persone prese dai carabinieri andiamo avanti altra pagina quella della nuova del sud leggiamo le notizie che arrivano dalla Basilicata ed ecco l'apertura del giornale uffici postali senza contante il sequestro del cavo della Ronda manda in tilt gli sportelli niente pensioni e prelievi gli ispettori della Banca d'Italia e il consulente della procura proseguono con le operazioni di riconteggio del danaro custodito e poi fermiamo gli autobus l'ANAV niente stipendi e tredicesime avanziamo 40 milioni dalla regione e poi Lago Negro l'ospedale torna in funzione risolti i problemi di areazione sale operatorie aperte la sospensione della licenza per il trasporto valori mette a rischio il furto il futuro dei lavoratori per quanto riguarda gli uffici postali e ancora Fenice è bloccato carico radioattivo subito ha scattato il piano di sicurezza sul posto ARPAB e vigili del fuoco il mezzo proveniente da Tella fermato all'ingresso dai responsabili dell'impianto e poi Mollica Pittella basta indugiare Movimento 5 Stelle all'attacco Sant'Arcangelo il sindaco lascia non reggo più lo stress e poi Comune di Potenza Carretta del PD mette i paletti niente accordo politico intanto è caos nel Materano il sindaco di Montalbano denuncia Pisticci non ha le volumetrie dichiarate dalla provincia e poi lo sport il Potenza sul filo di lana rinforza la difesa con Schettino zoom completo sul torneo regionale dei giovanissimi era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la segna stampa di oggi io vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro una buona giornata seguiteci sempre su www.unotvweb.it prossimo appuntamento alle 13.45 con il nostro TG grazie a tutti Grazie a tutti